benvenuto in leggenda spag qui è francesco almasi oggi voglio parlarvi di vidiq questo sito ci permette tramite un'estensione dedicata di gestire al meglio i tag e molto altro riguardante le informazioni di youtube dei vari canali oggi voglio farvi un aggiornamento di un video che avevo fatto su questa estensione in quanto sono state introdotte nuove funzionalità che hanno reso il tool ancora più efficiente questo qua il sito principale ma andiamo a vedere anche gli altri insomma come vedete questo tool è per coloro che sono nuovi con youtube è gratuito mentre se volete funzionalità maggiori dovrete pagare vidiq è diviso in più parti infatti avremo un account basic un account pro e un account boost l'account pro costerà 10 sterline al mese l'account boost sono 49 sterline al mese mentre per le imprese sono si richiede una demo e avrete le funzionalità illimitate per quanto riguarda l'aspetto dei video quindi ad esempio nella gestione video potremmo trovare ad esempio questa voce qua che ci permetterà di esportare il csv di gestire i video in massa e gestire le cards e annotations in massa quindi se dovete farlo per più video utilizzerete questa funzione inoltre recentemente hanno introdotto la possibilità di creare la tono bale quindi la cosiddetta copertina tramite ad esempio un'immagine un frame del proprio video utilizzare i colori o utilizzare un'immagine trascinandola e caricandola insomma ottimizzandola al meglio inoltre abbiamo altre funzionalità come ad esempio per quanto riguarda coloro che hanno l'account boost avranno la possibilità di avere titolo e suggerimento di titoli descrizione e poi avremo le opzioni come il contatore dei caratteri e il contatore delle il dispettore delle parole chiave il controllore delle altre parole chiave la possibilità di cancellare tutte le parole chiave fare il drag and drop delle parole chiave tradurre e le parole raccomandate le parole consigliate ovvero sono queste qua avremo la possibilità di avere tre parole chiave in base a una parola chiave che noi metteremo nella sezione dedicata e poi potremmo prendere spunto da un video recente con dei tag simili al proprio con la possibilità di aggiungerli semplicemente cliccando sul più a fianco di ciascuna parola chiave in questo modo avremo più possibilità di essere trovati su youtube inoltre hanno introdotto ad esempio la possibilità di visualizzare le parole chiave del proprio canale youtube che solitamente si trovano nella sezione informazioni e poi potremo vedere tutte le statistiche dettagliate di un video ad esempio in questo video che è uno dei più popolari di dexta appare lo score quindi il punteggio vdq quindi che gestisce a like commenti parole chiave molto altro potremo vedere le visualizzazioni totali le visualizzazioni all'ora i minuti di visualizzazione del video quindi se ad esempio sono 14 minuti hanno visto massimo 5 minuti il numero di iscritti totali al canale le embedded sources quindi le risorse collegate a questo video il numero di iscritti grazie a questo video insomma e poi molto altro quindi esempio i like su facebook i like su youtube i suggerimenti del creatore il partner o network di cui fa parte questo canale le stime di guadagno su questo video come vedete su 396 mila e passa visualizzazioni e 20 mila like ha un guadagno di circa 600 dollari quindi non male possibilità vi mostra anche le condivisioni su facebook i dislike che ovviamente vedete anche qua il numero di parole conteggiate il numero di di mesi da da cui è stato pubblicato sono passati tre mesi poi il numero di più uno su google plus quindi 505 più uno ricevuto questo video e molto altro insomma poi avremo la sezione tags e questo è molto interessante perché infatti potremo volendo o copiare il singolo tag cliccando facendo un copia o cliccandoci sopra potremo avere un'analisi veloce e parziale non totale del tag di sempre degli ultimi dell'ultimo anno degli ultimi 30 giorni per funzionalità maggiore ovviamente servono gli account a pagamento dei vidaiq e poi potremo anche copiare tutti i tag di quel video quindi se magari avete un video simile potrete copiare tutti i tag di un video simile quindi molto utile per ampliare le proprie possibilità di essere riconosciuti insomma quindi devo dire che si è ampliato ulteriormente questa estensione secondo me è molto ma molto utile e spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi se l'avete ancora fatto ecco il keyword inspector in pratica è questo qua voi cercherete una parola ad esempio calcio e lui vi facendo un'analisi vi darà delle parole chiave utili da inserire nei propri tag quindi è un cercatore di parole chiave potremo anche fare le traduzioni oppure cancellare tutte le parole chiave tramite il tasto clear e la possibilità di copiare i tags della clipboard quindi tutti vengono salvati come appunto spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi se non l'avete ancora fatto troverete tutti i link in descrizione vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo ad un prossimo video ciao